buongiorno a tutti bentornati nel mio canale oggi nella mia città è una giornata tipicamente invernale c'è un cielo nerissimo e sembra che stia per venire giù il mondo c'è un vento che porta via e c'è veramente freddissimo infatti hanno previsto neve quindi con questo cielo tempestoso questa giornata gelida io ho pensato di riscaldarmi pensando alle vacanze estive perché comunque stiamo per entrare nel mese di marzo quindi tra un po' molti di voi cominceranno a pensare alle vacanze estive io in realtà ci sto già pensando un pochino adesso però insomma più o meno arriverà il periodo a breve delle vacanze dell'organizzazione delle vacanze e quindi ho pensato di parlarvi del viaggio che io avevo fatto in spagna un paio d'anni fa io ero andata in spagna nella zona dell'andalusia nel periodo di fine agosto più o meno e quindi insomma ho pensato che magari questo video poteva essere utile per dare un'idea di vacanza a chi magari ancora non ha le idee tanto chiare e spero appunto di potervi dare qualche consiglio anche pratico per organizzare il vostro viaggio il meglio possibile io come vi dicevo sono andata nella zona dell'andalusia quindi tra malaga e gibilterra mi sono mossa diciamo in questa area qui gibilterra si trova vicino all'andalusia però come molti di voi sicuramente sanno è territorio inglese però io sono andata anche a gibilterra perché comunque era vicinissima però di gibilterra ve ne parlerò alla fine del video perché su quel su quella località volevo fare un discorso a parte prima di tutto vi faccio vedere la cartina dunque malaga è qui e io mi sono mossa tra malaga e gibilterra che qua in fondo quindi ho visto diciamo tutta questa zona qua più o meno non ho proprio visto tutto in realtà però mi sono mossa in quell'area lì andiamo con ordine però intanto vi dico che io sono partita da bergamo e sono atterrata a malaga una volta atterrati a malaga abbiamo subito noleggiato una macchina l'abbiamo presa molto comoda full optional col navigatore integrato così almeno non c'era rischio di perdersi e siamo rimasti molto soddisfatti perché era una macchina veramente veramente comoda poi ci siamo subito recati nella località nella quale avremmo alloggiato che si chiama benal madena è una località balneare proprio tipica da vacanza abbiamo alloggiato in un residence che si chiama flat hotel io vi lascio in descrizione il link per andare a vedere questo residence nel caso vi dovesse interessare così non mi perdo troppo in chiacchiere per parlarmi del residence e detto questo passiamo al cuore della vacanza allora innanzitutto io partirei da benal madena che era la località nella quale noi stavamo alloggiando perché perché comunque ci sono un sacco di cose carine da vedere anche lì vicino proprio in quella località innanzitutto vi segnalo che noi abbiamo scelto un residence che era sulla spiaggia però abbastanza lontano dal centro abitato diciamo così quindi noi rispetto alle spiagge più frequentate più affollate rispetto ai negozi bar ristoranti eravamo un pochino più lontani infatti per andare a fare la spesa nei vari negozi comunque dovevamo prendere la macchina perché a piedi era veramente lunga ma noi abbiamo fatto una scelta di questo tipo perché volevamo una vacanza abbastanza rilassante lontano dal casino quindi comunque lo abbiamo scelto apposta la cosa bella che a benal madena in questa zona diciamo un po più frequentata più abitata fanno le cene sulla spiaggia quindi voi se volete alla sera potete andare a mangiare direttamente sulla spiaggia il pesce cotto alla griglia direttamente lì appunto sul mare quindi questa è una cosa veramente molto bella molto caratteristica inoltre i prezzi non sono neanche tanto alti quindi è una cosa molto carina da fare insomma almeno una volta nella settimana è carino farla vicino a benal madena ci sono tante cose carine innanzitutto il centro storico che rimane un pochino più in alto quindi rispetto alle spiagge rimane un pochino più in altura ma è un centro storico secondo me veramente carino molto particolare perché ha le casette bianche dei vasi blu molto accesi che fanno un po da contrasto quindi creano un'ambientazione piuttosto pittoresca ed è veramente carino secondo me quel centro storico poi sempre lì vicino ci arrivate dal centro storico quindi dall'alto c'è un monumento che è molto molto particolare perché è un monumento interamente dedicato alla vita e ai viaggi di cristoforo colombo si chiama ve lo dico lo leggo così non mi sbaglio castello colomares si chiama così ed è veramente particolare ci sono le sculture dedicate alle tre caravelle ci sono delle sculture comunque dedicate a colombo e sui viaggi alla sua vita in generale la cosa particolare è che all'interno di questa struttura è presente la chiesa più piccola del mondo perché è una chiesa che ha una superficie di soli 1,96 metri quadrati quindi è veramente la chiesa più piccola del mondo ed è un po particolare insomma anche questo aspetto poi sempre a Benalmadena potete andare a vedere il parco delle aquile vi basterà prendere una funivia che vi porta in alto e in alto c'è questo parco delle aquile che è una specie di zoo dedicato agli uccelli rapaci quindi ci sono queste aquile di vario tipo voi se volete potete fare la foto con l'aquila poi ci sono delle diciamo delle manifestazioni degli spettacoli con le aquile quelli noi non li abbiamo visti perché erano in un orario diverso rispetto a quello in cui siamo arrivati noi però è molto bello ed è da vedere soprattutto perché l'ingresso è gratuito quindi non vi costa nulla ed è una cosa veramente particolare inoltre da qui partono delle brevi passeggiate che vi portano ancora più su quindi potete avere e godere di una vista panoramica veramente molto molto suggestiva altra cosa da segnalare a Benalmadena è il tempio buddista lì sulla strada praticamente sulla strada che va verso Marbella se non ricordo male quindi dalla parte di là si trova questo tempio buddista che è molto particolare è piccolino però è particolare io non l'avevo mai visto un tempio buddista quindi insomma l'ho trovato interessante l'ingresso è gratuito ha un orario di apertura che ora non ricordo qual è però sicuramente su internet poi si trova facilmente ed è una cosa insomma un po' originale un po' particolare che se vi capita di andare a vedere può essere interessante e l'altra cosa che noi abbiamo visto sempre a Benalmadena è il parco della Paloma è un parco enorme sono 200.000 metri quadrati tutti immersi nel verde a contatto con la natura a contatto con gli animali perché ci sono degli animali ci sono delle pecore delle capre ci sono i galli che girano lì per il parco e quello è un posto che va bene anche per chi ha problemi di movimento perché è tutto asfaltato e tutto in pianura quindi problemi non ce ne sono assolutamente ed è veramente molto molto carino ci sono dei piccoli ponticelli dei laghetti è veramente molto rilassante noi siamo andati in questo parco l'ultimo giorno perché eravamo stanchi perché il giorno dopo dovevamo partire quindi volevamo qualcosa di riposante di rilassante ed effettivamente questo parco è stato la scelta più azzeccata che potessimo fare per l'ultimo giorno queste sono tutte le cose che noi abbiamo visto nei dintorni di Benalmadena poi ovviamente abbiamo visto anche altre cose un pochino più lontane intanto Malaga la città di Malaga quella è veramente molto molto bella quindi io vi consiglio assolutamente di andarla a vedere adesso guarderò un attimino i miei appunti perché vi voglio dire tutto quello che c'è da vedere a Malaga me lo sono scritto perché la mia memoria comincia a perdere colpi quindi intanto il centro il centro della città merita perché è una galleria di negozi, di ristoranti, di bar, di turismo è veramente il cuore pulsante di Malaga quindi il centro sicuramente da vedere la cattedrale sicuramente da vedere perché è meravigliosa, veramente bella poi c'è il castello di Gibralfaro da vedere che è molto bello c'è il teatro romano che è un altro, veramente un altro luogo molto molto caratteristico e c'è la plaza de Toros che sarebbe chiamata anche la Malagheta che sarebbe semplicemente l'arena in cui vengono svolte le corride ed è visitabile tutti i weekend oppure quando c'è la corrida ed è veramente particolare e carina anche quella da vedere quindi io ve la consiglio e poi c'è la fortezza araba che si chiama Al-Kazeba che anche quella è molto molto suggestiva quindi insomma a Malaga ci sono un sacco di cose da vedere altra cosa da vedere assolutamente è un piccolo paesino che si chiama Casares quello è un paesino tipico dell'Andalusia veramente caratteristico che ha un po' dei toni sull'arabo in realtà perché ha queste case bianche tipiche tutto un po' di pietra insomma quindi è molto particolare però è veramente suggestivo il fatto che questo paesino non è turistico quindi pur essendo molto molto caratteristico e molto bello non è turistico quindi è veramente incontaminato quindi se voi volete vedere veramente un paese tipico di quella zona andate a Casares perché lì vi troverete a contatto completamente con la natura del luogo e con tutto quello che è caratteristico di un paesino dell'Andalusia quindi io veramente vi consiglio di andarlo a vedere proprio perché essendo così poco turistico voi potrete davvero entrare in contatto con la cultura del luogo quindi io l'ho trovato veramente molto molto particolare quindi io ve lo consiglio un altro paesino bellissimo che vi consiglio di andare a vedere ma in questo caso invece è molto turistico perché ci sono un sacco di turisti è Mijas Mijas è veramente bello io sono rimasta molto molto affascinata da questo paese è un paese proprio tipico pittoresco caratteristico c'è una bellissima vista perché comunque si può godere davvero di una bellissima vista su tutto il territorio le strade sono in stile un pochino arabo e c'è un piccolo santuario proprio nel centro del paese che è da vedere perché è davvero particolare la cosa diciamo da segnalare è che questo paesino è caratterizzato da un servizio taxi piuttosto insolito ossia il burro taxi se sapete lo spagnolo sapete che burro significa asino c'è l'asino taxi quindi praticamente ci sono degli asinelli che sono posteggiati tra virgolette nelle varie zone insomma del centro e svolgono servizio taxi per i turisti quindi vi potete fare anche il giro sull'asinello è veramente particolare a me questa cosa ha colpito molto e l'ho trovata veramente molto molto carina infatti questo paesino è pieno di asinelli ovunque e si può anche fare la foto sulla statua dell'asinello cosa che io modestamente ho pensato di fare quindi insomma ho fatto anche la foto lì sopra poi un'altra località da vedere assolutamente è Marbella Marbella è una località balneare e su questo volevo dirvi una cosa fate attenzione perché se voi usate il navigatore mettete Marbella e indicate il centro di Marbella e il navigatore vi porterà nella zona balneare che però è molto diversa e soprattutto abbastanza lontana da quella del centro storico perché la località balneare ha delle belle spiagge dei bei locali, ha un bellissimo porticciolo ha delle cose particolari e caratteristiche come ad esempio le panchine in ceramica bianca dipinta che sono bellissime poi sulla strada principale che porta diciamo che conduce dalla spiaggia al paese diciamo così c'è una grande scalinata con tutte le sculture di Salvador Dalì quindi è veramente bella però in realtà il centro storico di Marbella si trova piuttosto lontano perché da lì sono più o meno 6 km però il navigatore non ce lo aveva segnalato noi abbiamo scoperto per caso che in realtà quello non era il centro storico quindi poi abbiamo preso la macchina siamo andati a cercare questo centro storico e siamo rimasti a bocca aperta perché è veramente bello sembra di essere immersi in un quadro è qualcosa di spettacolare veramente un paesaggio pittoresco bellissimo, caratteristico veramente ci sono degli angoli di questo paese che davvero mi ricordavano un quadro mi sembrava di essere entrata in un quadro quindi Marbella sicuramente è da vedere perché è bellissima ed è abbastanza vicina comunque a Benalmadena se per caso decidete poi di alloggiare lì noi abbiamo scelto di alloggiare a Benalmadena perché era uno dei posti più economici e anche più strategici perché noi avevamo comunque in mente di muoverci e di fare questo giro quindi diciamo che ci siamo trovati in una zona molto molto strategica un'altra località che abbiamo visto è Granada che sicuramente è una città molto bella però noi abbiamo dedicato quasi tutto il nostro tempo a vedere la Alambra io spero si pronunci in questo modo che è praticamente un complesso con edifici e palazzi in stile arabo quindi è un esempio di architettura e di arte araba ed è veramente bellissimo quindi io vi consiglio di andare a vederlo assolutamente perché ci sono questi palazzi e questi giardini che sono spettacolari vi dico però che si paga il biglietto quindi è proprio un complesso praticamente un complesso museale all'aperto e non solo all'aperto perché poi si può entrare comunque anche all'interno dei palazzi però insomma pur essendo a pagamento ne vale veramente la pena perché è bellissimo quindi io vi consiglio di vederlo e tenete presente che è molto vasto quindi ci vuole parecchio tempo per vederlo noi avevamo mezza giornata pensando che fosse sufficiente invece ci siamo accorti che ne sarebbe stato necessario avere tutta la giornata perché è molto molto vasto quindi insomma tenetelo presente però è davvero bellissimo ci sono gli edifici religiosi ci sono i grandi palazzi che appartenevano appunto a questi grandi sheikhi arabi cioè veramente qualcosa di bellissimo e poi c'è il giardino con le ninfee che è veramente uno spettacolo quindi insomma io vi consiglio di vederlo sicuramente anche la città di Granada è da vedere però tutto in un giorno non ci si riesce quindi o dedicate due giorni a Granada oppure dovete scegliere o la città o la Alhambra perché non è fattibile vedere tutto insieme adesso passiamo a Gibilterra innanzitutto vi sconsiglio vivamente di andare dentro a Gibilterra con la macchina intanto perché c'è traffico e poi perché i posteggi si pagano veramente cari come il sangue quindi io vi consiglio di arrivare fino al paese di confine che si chiama La Linea vi lascio magari in infobox le spiegazioni comunque voi arrivate alla Linea posteggiate lì che i posteggi sono molto più economici addirittura io ho trovato un posteggio gratuito però io sono abbastanza fortunata con i posteggi quindi non so se fa molto testo la mia esperienza in questo senso però ci sono anche dei posteggi gratuiti e una volta scesi alla linea voi potrete arrivare a Gibilterra a piedi perché è veramente vicino noi ci abbiamo messo più o meno un quarto d'ora a piedi ed è in pianura quindi è una cosa fattibile poi se volete ci sono anche i pullman però io vi consiglio di andare a piedi perché è vicino tenete presente che dovete attraversare un passaggio a livello che però non è un passaggio a livello normale perché non è una stazione del treno ma è l'aeroporto quindi molto spesso succede che si abbassano le sbarre voi dovete aspettare che l'aereo decolli o atterri quindi vi ritroverete proprio l'aereo lì davanti e poi dopo potrete andare avanti noi abbiamo visto sia un decollo che un atterraggio quindi sia l'andata che il ritorno ci è capitato di trovare le sbarre abbassate ma è stato veramente caratteristico anche perché una volta che voi potrete andare avanti passare vi troverete comunque a camminare sulla pista dell'aeroporto quindi è una cosa un po' particolare quando poi arriverete a Gibilterra vi troverete in territorio inglese con uno stile inglese quindi c'è la famosissima Main Street che è una piccola Londra quindi tutto in stile inglese è una strada pedonale con le classiche case inglesi le classiche cabine del telefono inglesi quindi insomma tutto in stile inglese noi abbiamo scelto di fare una passeggiata nella parte bassa perché se voi volete potete prendere una funivia e arrivare nella parte alta di Gibilterra che è caratteristica per le sue famosissime scimmie i macachi insomma le scimmie tipiche che si trovano a Gibilterra noi abbiamo scelto accuratamente di evitare questa cosa perché queste scimmie pur essendo caratteristiche sono veramente molto dispettose quindi vi ritroverete le scimmie sulle spalle sulla testa poi io avevo letto su internet che queste scimmie hanno l'abitudine comunque di rubare dentro le borse di scippare i turisti quindi di prendere proprio i sacchetti dalle mani sono veramente molto dispettose io sinceramente non mi volevo ritrovare in quella situazione lì perché non mi va insomma non sono cose che mi piacciono quindi noi abbiamo evitato comunque di salire in alto e siamo rimasti in basso quello che abbiamo visto in basso è appunto questa Main Street come vi dicevo la chiesa anglicana abbiamo visto il cimitero di Trafalgar che è veramente molto suggestivo è molto piccolo ma davvero suggestivo è un cimitero di guerra ci sono tutti caduti dalla battaglia di Trafalgar e di fronte c'è proprio la statua dell'ammiraglio Nelson che è morto appunto proprio nella battaglia di Trafalgar il 21 di ottobre del 1805 quindi insomma c'è anche questa parte diciamo un pochino più storica poi c'è il giardino inglese poi nella zona del cimitero c'è una fermata dell'autobus che vi condurrà alla zona del faro è una zona veramente bella perché c'è una vista spettacolare c'è questo faro veramente bello c'è una moschea quindi se volete potete anche visitare la moschea a patto che non ci sia la funzione religiosa però insomma anche quella è una cosa veramente bella ma soprattutto quel punto è famoso per le colonne d'Ercole perché è un punto nel quale si può vedere bene lo stretto di Gibilterra che appunto è famoso perché Ercole il famoso eroe mitologico una volta giunto sui due monti che erano considerati confini estremi del mondo oltre i quali mortali non potevano andare aveva messo due colonne e aveva scritto non plus ultra cioè non più avanti perché più avanti di lì non si poteva andare quindi le famose colonne d'Ercole ci sono delle statue che insomma vanno a simboleggiare questa cosa però è veramente molto suggestivo se conoscete questa parte di storia trovarvi lì di persona e vedere proprio questo punto che per la mitologia ha questo significato così simbolico secondo me è qualcosa di molto molto bello queste sono tutte le cose che noi abbiamo visto siamo rimasti lì una settimana che secondo me è poca perché se avessimo avuto più giorni avremmo potuto sicuramente vedere più cose anche magari con un po' più di calma però è stata veramente una bella vacanza ho visto delle cose veramente belle che mi sono piaciute tantissimo e quindi se per caso non avete idee quest'anno per quest'estate io vi consiglio di pensare eventualmente di considerare l'ipotesi di andare in Spagna nella zona dell'Andalusia perché davvero ci sono delle cose molto molto carine da vedere io spero che questo video vi sia stato almeno un pochino utile di avervi dato qualche consiglio interessante insomma di avervi fatto passare un po' di tempo così viaggiando insieme a me vi do appuntamento al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like se vi è piaciuto vi mando un bacio enorme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti